Una serie dedicata ad uno storico marchio. Com'è oggi ho un Browning X-Bolt in 30.06. Durante battute di caccia agli ungulati e alla piccola selvaggina, Questo è un vitello. Alberto Rizzini mette alla prova l'efficacia di carabine e fucili nella caccia con le armi a canna liscia e rigata. Browning Rocks. Dall'8 giugno ogni lunedì alle 22 su Caccia, canale 235. Grazie.